amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati questa di oggi è un'intervista esclusiva perché abbiamo come ospiti la senatrice natalia nikonorova in collegamento dal doniex senatrice della federazione russa per la regione del doniex e rappresenta al senato russo proprio la regione benvenuta e si è già si è già presentato con una traduzione in collegamento da mosca e funzionario del ministero degli affari esteri della federazione russa sergei cernega che abbiamo già avuto modo di avere ospite di intervistare a febbraio questa intervista va è resa possibile grazie alla intermediazione di amedeo avondè leader di italia unita benvenuto benvenuto serghei buongiorno a tutti allora io partirei subito con la prima domanda alla senatrice chiedendole lei che è di origine del donbass ormai senatrice russa della dpr è già stata senatrice russa dpr dones people republic quindi la repubblica della del dones ex ministro degli affari esteri della repubblica del dones lei è una quindi ha un percorso che la rende unica in questo caso perché ha vissuto nell'ucraina nel dones indipendente della russia vorrei che ci raccontasse la sua esperienza come è cambiato il destino della della sua terra natale e delle persone che vivono lì l'acce per cui hai sono detto di potter lì pr извattete l'acce per la sua ricostata cosa è il donesco l'acce per la domanda lo sono مت Orange delle donne l'acce per l'acce per il sede dell'acce per la terra ora avete sede che vi è stata sentita come è cambiata l'acce per la terra l'acce per la terratura l'acce per la terra l'acce per la terra Sono molto grato per la vostra domanda. È veramente che Donbass è una regione unica che in passato è stata la parte dell'Ucraina più nel passato è stata l'Unione Sovietica e ormai la parte della Federazione Russa. L'Ucraina ha ereditato la parte molto ricca dell'URSS con il grande complesso industriale e la gente molto qualificata. Davanti ai miei occhi sono nata lì, questa ricchezza è letteralmente andata in pezze. Le imprese industriali uniche nel suo genere furono vendute per quattro soldi. Il patrimonio dello Stato, come diciamo in Russia, fu sperperato. L'infrastruttura più importante fu distrutto, i servizi pubblici, le strade, le strutture sociali. Per 30 anni il governo ucraino non sviluppava e non investiva niente nel territorio. L'Ucraina ha avuto l'oggo. un sanguinoso colpo di Stato anticostituzionale. Sono saliti al potere quelli che appoggiano il neonazismo e la rasofobia. Donbass non è riuscito a digerirlo e si è cominciata la cosiddetta primavera russa, quando le repubbliche del Donbass sono diventate indipendenti. e inizia a dire che inizia non servizia non servizia non servizia non servizia. Nessalmente, inizia a uscita di nostre constituzionale. Ma quando Ciave in attesa di questo obiettivo di un'attiterno operazione e impreva a la natura di Donbass di un'attività riuscola Allora vorrei sottolineare che innanzitutto le Repubbliche di Donbass, soprattutto Donetsk, non chiedeva l'indipendenza, ma solamente la difesa dei diritti costituzionali e poi dopo questo hanno deciso di ricarsi all'indipendenza perché le condizioni non sono state accettate. Grazie. Devo aggiungere che lei ha indicato che in passato ho ricoperto la carica della Ministra degli Affari Estere della Repubblica Popolare di Donetsk, è stato un periodo molto interessante, molto intenso, che mi ricordo con un certo affetto, noi abbiamo creato il Ministero da zero, abbiamo sviluppato dei rapporti con dei partner stranieri nelle condizioni oggettivamente sconfortevole. Tutto questo è stato fatto quando il regime di Kiev ha lanciato un'operazione antiterroristica contro dei civili delle Repubblici Popolari di Donetsk e Lugansk. Io in questo periodo di tempo anche eravamo un'applicazione di ristopoli in minstri e con i miei occhi vedi che da parte dell'Ucraina i ristopoli hanno fatto tutto per che non c'erano risultati, che non c'erano risultati, che non c'erano risultati. Sono stata anche la rappresentante nei negoziati di Minsk e davanti a miei occhi erano le prove che la parte di Kiev sabotava gli accordi. Se voi siete interessati, noi abbiamo tantissime prove che Kiev sabotava veramente questi accordi e faceva del tutto per non arrivare alla pace. Certo. E questo magari potremmo valutarle in una successiva intervista. Volevo sentire se aveva altre cose importanti da dire su questa prima domanda perché poi magari passiamo anche alla seconda. Sì. 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 Possiamo. passare alla seconda domanda, ma prima vorrei aggiungere qualcosa sulla nostra collaborazione con l'Italia. Voi sapete che noi abbiamo due rappresentanti a Verona e a Torino, le rappresentanti della Repubblica di Donetsk. cui organizzavano tantissimi eventi, tra cui i festivali di famiglie, le mostre fotografiche, gli incontri dedicati alla situazione in Donbass e in particolare alla memoria del primo leader della Repubblica, Aleksandra Zakharchenka, ucciso dall'Ucraina. E' in particolare. E' a seconda domanda, che è una cosa in maniera la sua vita di Donbass in Donbass. Sì. 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 E la seconda cosa che vorrei aggiungere è che come testimone, come cittadina di Donetsk, sto vedendo il ristauro che procede al ritmo accelerato. Nell'Unione Sovietica il Donetsk era il cuore industriale del paese, sono convinto che questa titola sta ritornando da noi. Ma soprattutto un altro risultato che hanno raggiunto i nostri cittadini, la gente ha riclamato il diritto di essere russi, di parlare la madrelingua, di insegnarla a bambini, di onorare la memoria dei veri eroi, non dei collaboratori nazisti imposti dal regime di Kiev. E noi proprio sentiamo il pensiero della Russia che è preoccupato per il nostro destino e siamo felici che noi siamo tornati a casa. Certo. Veniamo alla stretta attualità adesso, perché recentemente il Papa, le scorse settimane, ha lanciato un'iniziativa di pace, ha invitiato Zelensky ad alzare bandiera bianca. Come valuta la senatrice il contributo del Vaticano alla causa della pace in Ucraina? Può la Santa Sede essere una forza neutrale per la pace in Ucraina? Grazie a tutti. 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 All'Europa, tornando alla vostra domanda, vuole dei benefici concreti. Il regime di Kyiv è uno strumento nella lotta contro la Russia, una sorta del progetto l'antirussia vicino ai nostri confini. Loro hanno creato il paese dove la russofobia è istituzionalizzata e ormai loro trarono vantaggio coltivandola. Sì, se ha qualcosa da aggiungere, altrimenti passiamo anche alla domanda successiva, prego. Sì, allora, torniamo alla stretta attualità. Quale minaccia rappresenta la crisi di Ucraina per gli europei? Sì, siamo arrivati a attuali temi oggi. Quali rischi presenta la crisi di europei? La crisi di Ucraina rappresenta una grave minaccia. esistenziale per il mondo intero, per questi giochi con i neonazisti. Come voi potevate testimoniare, il regime di Kyiv utilizza i terribili metodi dei criminali nazisti della Seconda Guerra Mondiale? Sì, abbiamo in questo momento molti dimenticati ucraina nazisti. Noi possediamo le numerose prove delle atrocità dei neonazisti ucraini. La cosa peggiora tra le vittime ci sono anche dei bambini. Noi abbiamo i documenti raccolti dopo la liberazione di Mariupol dove le ucraini facevano gli esperimenti medici con dei bambini in età da 0 a 11 anni. Noi siamo venuti a conoscenza dei fatti che otto ospedali stavano testando dei farmaci occidentali durante tali esperimenti. Ci sono anche le provo delle attività uribile dei trapianti steneri a Lissicchansk, Rubesne, Sèvera Donetsk e anche a Mariupol. C'è anche le prove dei nostri militari che le ucraini dopo aver lasciato il territorio lasciano le prove dell'uso regolare delle stupefacenti dei psicofarmici nelle forze armate Ucraina. E' Noi abbiamo le numerosissime prove dei fatti che facevano le nazionalisti ucraini contro dei civili con i suoi attentati, con la sua artilleria contro le città di Donetsk e di altre regioni. E vorrei accettare il nostro studioso russo di fama internazionale che ha detto nell'inizio del ventesimo secolo, la storia non è una insegnante ma una sorvigliante, non insegna nulla ma punisce per l'ignoranza delle lezioni storiche. Passiamo alla domanda successiva. Si sente spesso parlare di armi europee e americane fornite all'Ucraina che finiscono sui mercati neri all'estero. Secondo la senatrice, i lobbisti del complesso militare industriale potevano prevedere il percorso attraverso Kiev per le forniture di armi al mondo? Sì, ci sono spesso parlano che europee e americane per l'armi all'estero, che poi accadevano all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino? In strument types ofidi venez lo bis ye vi. Sapute che pcigli supreme vori voriat listo all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero ucraino all'estero. e anche in effetti sono informazioni in strumenti massовой informazioni. E' ovunque faccio. Noi, ovviamente, non si può esclusare i posti planificati per il regime chiivese, per il territorio dell'Ucraina. Per questo, ovviamente, si tratta di pagare i soldi, i soldi del complesso dell'argomento e dell'argomento, e qui, come diceva, niente личo, solo il business. Nei media compaiono regolarmente notizie che i rappresentanti del regime di Kiev stanno rubando le armi e le munizioni fornite, che poi saltano fuori sui mercati neri, negli altri conflitti. Credo che i lobbisti del complesso militare industriale stiano prendendo diversi piccioni con una fava. Mandano le armi in Ucraina come al macero, senza alcun investimento, ma anche provano le nuove armi. Non si può escludere lo scenario previsto da Washington e compagnia sul traffico delle armi attraverso il territorio dell'Ucraina. C'è il modo di dire occidentale, niente di personale, solo affari. Una domanda necessaria, inevitabile, a questo punto parliamo dell'attentato terroristico, del massacro del 22 marzo al Crocus City Hall di Mosca. La Russia dice che i terroristi volevano fuggire in Ucraina. Lei, voi pensate davvero che sia Kiev la parte interessata e che ha organizzato tutto? No. 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 Il comandante Kiev non suscita sospetti. La ragione è chiara. Kiev è una marionetta e quindi è l'esecutore perfetto della volontà di padrone. Tanto più non hanno i soldi perché la sua finanza di oggi è terribile, però hanno un'esperienza eccellente del fare gli attentati nel territorio di Donbass, ma dei burutinai dobbiamo cercare altrove. D'accordo. Io nella ringraziare la senatrice Natalia Nicanorova per questa intervista, volevo chiudere chiedendole se è disponibile eventualmente a un'intervista assieme a qualche parlamentare italiano per confrontarvi su questi temi e più in generale sulla situazione pericolosissima, come stiamo sperimentando tutti, che coinvolge l'Occidente e la Russia. D'accordo. 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 Sì, siamo pronti perché siamo sempre in favore dei metodi di portare la verità contro tutte le mezzogne e secondo noi nel dialogo possiamo trovare questi punti della verità. Sì, noi confidiamo di poterla organizzare un'intervista di questo tipo perché la filosofia del vaso di Pandora è che il confronto, il confronto vero, è sempre un momento di evoluzione per tutti a partire dagli ascoltatori, dalla pubblica opinione e dal popolo. Questa è la filosofia della nostra testata giornalistica. Allora, io volevo ringraziare in maniera particolare Sergei Cernega, che abbiamo qui in collegamento da Mosca, perché si è molto gentilmente prestato a fare la traduzione. Sergei Cernega, che è un funzionario del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa e vorrei chiederle, Sergei, un commento a questa intervista. Grazie mille per la intervista. Sì, sicuramente, voglio chiedere a lei, Sergei, un commento a questa intervista che abbiamo realizzato. Poter intervistare un senatore, un parlamentare russo è già una conquista. Ecco, volevo sentire, giusto per terminare, lascerei a lei la parola per commentare quanto è stato detto o una sua riflessione su questa intervista. Devo soprattutto ringraziare la senatrice per aver reso possibile fare questa intervista e di portare tutta la verità che noi siamo in conoscenza, noi siamo in possesso. Contiamo veramente su voi, giornalisti italiani che sono indipendenti dalla propaganda centrale, che può trasmettere l'altra visione che non allinea a quella della propaganda dei media classici. Devo ringraziare ancora il vaso di Pandora per la seconda volta, noi siamo qua e devo ringraziare certamente i nostri ascoltatori. Grazie, grazie molte. Io ringrazio la senatrice Natalia Nikanorova della Federazione Russa per la regione del Donetsk. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.